Il camper della polizia, la moto, le auto di oggi e di ieri e poi i mezzi di CAV per gli interventi sulla strada e dal cielo con il drone, è tornata oggi in piazza Borsa a Treviso, CAV in piazza, la cittadella della sicurezza stradale allestita nei principali centri del territorio da concessioni autostradali venete e polizia stradale del Veneto per avvicinare tutta la famiglia al mondo del viaggio, dei motori, della tecnologia e del soccorso. Prima tappa a Treviso, poi la cittadella della sicurezza stradale sarà nelle piazze di Mestre e Padova per presentare le figure, i mezzi e i dispositivi che ogni giorno, 365 giorni all'anno, operano per garantire sicurezza, regolarità del traffico e assistenza ai viaggiatori. A divertirsi sono stati soprattutto i più piccini affascinati dalla moto della polizia sulla quale sono potuti salire sentendosi per qualche minuto dai poliziotti in servizio, ma anche i visori che consentono ai giovani di capire gli effetti di alcol e droga e i pericoli che ne derivano quando si è alla guida.